A Monta 118.000 euro la somma a disposizione del Comune di Mesagne per la concessione di contributi economici destinati al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2019. Tale cifra include gli ulteriori 19.000 euro previsti dalla Regione Puglia come premialità. Potranno accedere al beneficio i soggetti con contratto regolarmente registrato per alloggi in locazione a titolo di abitazione principale accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare. I richiedenti dovranno essere ovviamente residenti a Mesagne. Sul sito istituzionale del Comune è disponibile l'avviso pubblico. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 11 gennaio 2021 mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica dell'assessorato alle politiche sociali o presso l'ufficio protocollo del Comune. La modulistica da compilare è disponibile presso l'ufficio servizi sociali comunale oppure scaricabile dal sito alla voce bando contributi canone locazione anno 2019 cliccando sul link modulo di domanda. Il personale dell'ufficio dei servizi sociali del Comune sarà disponibile per ogni chiarimento utile alla corretta compilazione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle ore 16 alle 18.